dal pala corigliano luogo storico di divertimento e di passione parliamo di volley lo facciamo con Maria Cristina Siska grazie per averci ospitato grazie a te Matteo allora sì eh noi siamo pronti per iniziare la stagione sportiva duemila e ventidue duemila e ventitré la nostra palestra è aperta a tutti i giovani atleti e atlete eh dai sei ai diciotto anni che vorranno intraprendere eh l'attività della pallavolo comunque iniziare ad approcciarsi a questo sport eh la nostra segreteria il nostro eh centro di informazione è è sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle nove alle dodici della mattina e dalle sedici alle venti del pomeriggio ci troviamo presso il pala brillia e speriamo di potervi ospitare aspettare in tanti per darvi tutte le informazioni che possono essere utili ai vostri bambini per iniziare l'attività responsabile del settore giovani e responsabile dei progetti scolastici quindi un movimento eh che richiama decine decine centinaia di di persone come riparte la Corigliano Volley perché l'anno scorso abbiamo seguito il lungo e il largo il vostro lavoro che non è meramente sportivo non c'è solo il lavoro in palestra ma c'è tanto altro che abbiamo comunque raccontato sì Matteo allora noi siamo già pronti per poter iniziare anche la collaborazione con le scuole eh a breve abbiamo chiesto gli incontri con i dirigenti scolastici che ci hanno eh accolto sempre a braccia aperte qualcuno lo conosceremo quest'anno e ne saremo felici ed entusiasti e cercheremo di lavorare al meglio anche con loro i progetti quest'anno eh hanno qualcosa di nuovo perché l'innovazione è quello che eh ci caratterizza cerchiamo sempre di essere eh al servizio della comunità e quindi delle scuole lavorare eh per il bene dei ragazzi penso che questa sia la cosa più importante quest'anno ci siamo dati un tema principale che seguiremo in ognuna delle nostre attività che sarà il tema dell'educazione che andrà a trattare diversi eh tutte le diverse declinazioni di questo grande ambito insomma eh quindi cercheremo di essere al servizio della scuola anche per questo una bella sfida tanti temi abbiamo parlato nel corso di questi anni di quelli che sono i risultati agonistici straordinari della squadra e di qualche esponente del nostro territorio in bocca al lupo naturalmente a Daniele Lavia e poi i tanti giovani che si divertono con uno sguardo all'alimentazione allo stare insieme alla socialità avrai un bel da fare perché comunque eh certamente c'è entusiasmo nelle scuole c'è entusiasmo qui il pomeriggio uno staff allargato è sempre più completo quindi sicuramente una bella emozione buon lavoro grazie mille vi aspetto tutti quanti in palestra eh i nostri numeri ovviamente sono anche sui social su Instagram su Facebook potete contattarci come e quando preferite e vi aspetto veramente a braccia aperte per iniziare questa stagione insieme grazie mille